Vediamo come funziona Nearpod. Nearpod è l'applicazione ideale per capovolgere la nostra didattica e integrare il digitale nelle nostre lezioni. Possiamo iscriverci a Nearpod come studenti unendoci a una lezione inserendo il codice che ci fornirà l'insegnante oppure possiamo creare il nostro account gratuito come insegnante e possiamo farlo anche con gli account google e microsoft. Una volta effettuato l'accesso questa sarà la nostra pagina di lavoro. Creare una lezione è molto semplice ci basterà infatti cliccare su questo segno più create a lesson e ancora cliccare sul segno più per aggiungere contenuti e attività. Possiamo aggiungere qualsiasi tipo di contenuto possiamo inserire delle diapositive che possiamo creare direttamente su Nearpod. Possiamo inserire dei video interattivi, contenuti direttamente dal web, contenuti in 3d, viaggi virtuali, simulazioni FET molto utili per chi insegna matematica e scienze. Ancora video direttamente dalla BBC questi sarebbero dei video in inglese quindi molto utili per chi insegna inglese o chi insegna in inglese. Presentazioni e pagine web realizzate con Sway così come possiamo caricare pdf o audio precedentemente registrati. Possiamo anche inserire attività per il consolidamento, attività molto interessanti che vengono presentate anche sotto forma di sfida e quindi ci aiutano a rendere le nostre lezioni più interessanti integrandole con la gamification come per esempio Flipgrid, Draw, Hit o anche la possibilità di realizzare delle lavagne collaborative. Sono come vedete una decina di attività, tutte molto interessanti per consolidare le nuove conoscenze o testare le conoscenze pregresse. Aggiungere un contenuto è molto semplice, vado quindi a cliccare ancora su content. Molto interessante è la possibilità di creare delle diapositive direttamente con Nearpod. Cliccando qua su slides si aprirà un editor di diapositive nel quale non solo potrò aggiungere i miei testi e personalizzarli ma potrò anche aggiungere dei video, posso aggiungere delle gif e opzione molto interessante posso aggiungere degli audio che possono essere sia degli audio precedentemente registrati ma li posso anche registrare direttamente nel momento in cui sto creando la mia presentazione. Quindi uno strumento gratuito e assolutamente completo per realizzare delle diapositive che posso aggiungere alla mia lezione. Molto interessante è anche la possibilità di aggiungere dei video interattivi se infatti vado a cliccare qua su video posso inserire dei video direttamente dalla media library di Nearpod filtrando la ricerca qui in base all'argomento ma sono tutti i video in inglese quindi utili per chi insegna inglese o per chi progetta attività interdisciplinari anche in modalità CLIL. Posso però caricare anche un mio video o semplicemente sceglierlo da youtube cliccando qua su youtube. Immaginiamo per esempio di voler realizzare una lezione di storia sui romani per la scuola primaria, inserisco i termini di ricerca, avvio la mia ricerca e seleziono quindi il video di mio interesse. Una volta selezionato clicco in basso a destra su save. Ma non è tutto qui posso infatti aggiungere delle attività interattive al mio video, scegliere io in quale momento del video aggiungerle e cliccare quindi qua sul segno più ad activity per aggiungere o delle domande con risposta aperta o delle domande con risposta multipla. Non solo posso anche tagliare il mio video se vado infatti a cliccare qui a destra su trim posso scegliere quale porzione di video voglio che i ragazzi visualizzino. Una volta preparato il mio video dovrò semplicemente cliccare qua su save per salvarlo e aggiungerlo alla lezione. Posso ancora aggiungere tutte le attività che voglio alla mia lezione ancora cliccando qua su add content and activities può essere interessante per esempio anche la possibilità di aggiungere un contenuto in 3d. In questo caso è una lezione di storia quindi vado a cliccare su ancient times e vedete mi viene proposta una versione tridimensionale del Colosseo quindi la seleziono. Posso vedere un'anteprima oppure cliccare su don per aggiungerla. Ancora posso inserire un tour virtuale cliccando qua su wire feed trip. Vado qui di inserire l'oggetto della mia ricerca che in questo caso potrebbe di nuovo essere il Colosseo. Avvio la ricerca e scelgo tali opzioni che mi vengono proposte. Anche in questo caso posso vedere un'anteprima oppure clicco direttamente su don per aggiungerlo. Ma potrei aggiungere il mio tour anche direttamente da google maps o google earth semplicemente andando a copiare il link e poi andando qui a cliccare su web content e incollare il mio link. Quindi come vedete posso inserire qualsiasi tipo di contenuto nella mia lezione creata con Nearpod. Una volta che ho creato la lezione sarà importante ricordarmi di inserire le informazioni. Quindi vado a cliccare qua su settings. Do un nome alla mia lezione che sarà una lezione di prova. Posso inserire il grado di livello scolastico, in questo caso vengono proposti quelli americani. Posso inserire l'argomento, in questo caso i studi sociali, e quindi vado a cliccare su submit per inserire la mia lezione. Una volta inserite informazioni e contenuti io posso sia vedere un'anteprima della mia lezione, posso ancora aggiungere altri file direttamente dal mio computer, oppure clicco qua su save ed exit per salvare la mia lezione su Nearpod. A questo punto la lezione comparirà nella dashboard Nearpod. Per condividerla mi basterà appoggiarmi con il mouse sopra la lezione. Posso lanciare la partecipazione live, in questo caso gli studenti dovranno prendere parte alla lezione nel momento stesso in cui la lancio, oppure lanciarla al passo degli studenti, quindi scegliendo una scadenza che può essere di medio o lungo termine. Vado qui a cliccare sul calendario, vado a scegliere la scadenza. Una volta che l'ho scelta, se clicco qua su share, condividi, ho la possibilità di condividere la mia lezione tramite un link, tramite mail, posso condividerla anche direttamente su Google Classroom o Microsoft Teams. Se attivo l'opzione qua in basso, chiederò agli studenti di non saltare neanche un passaggio della mia lezione. Posso anche semplicemente condividere il codice della lezione che i ragazzi inseriranno su Nearpod per parteciparvi. Altro aspetto interessante sta nella possibilità di poter creare delle cartelle dove posso organizzare le mie lezioni per argomenti. Se clicco qua su folder, do un nome alla mia cartella, per esempio cartella di storia, clicco quindi su create, in automatico viene creata la mia nuova cartella. Se adesso io ritorno alla dashboard, per aggiungere la lezione alla nuova cartella creata, mi basterà trascinarla e rilasciarla all'interno della cartella.